Penso che il primo significato che io do al termine misericordia sia quello del perdono. Credo che sia un aspetto essenziale e necessario. Se c'è il perdono, credo che ci possano essere tante altre cose. Per l'anno della misericordia, per questo evento speciale di questo giubileo, ovviamente lavoreremo tutti insieme per raccontare delle storie, per diffondere il messaggio della misericordia. E poi, inevitabilmente, la mia speranza è quella anche di poter stare a Roma, nella mia città, per poter vivere questo grande appuntamento in un modo inevitabilmente speciale. La mia più grande speranza per l'anno della misericordia è fondamentalmente una, e il concetto è quello del rispetto. Io credo che il rispetto sia la base per poter costruire qualunque altra cosa, soprattutto in termini di pace, soprattutto in termini di migliorare delle relazioni, soprattutto in questo momento specifico che stiamo attraversando dopo anche quello che è successo recentemente.